In collaborazione con Siamo pronti? Partiamo! Buonasera e ben trovati amici telespettatori con un nuovo appuntamento delle Marche nel Pallone Tempi supplementari il contenitore che dedichiamo alla promozione tutti i lunedì sera oggi abbiamo ospite Jonathan Proculo volto noto del calcio marchigiano e lo salutiamo subito Grazie a voi di essere qui Jonathan Proculo, grandissimo giocatore poi parleremo anche della sua carriera da giocatore e adesso è un direttore sportivo che è alla ricerca di panchina o di squadra per la prossima stagione ma è sicuramente un uomo di calcio che vive da vicino le vicende del torneo di promozione che ha seguito un po' tutto il campionato e sta seguendo continuamente quello che succede settimana dopo settimana sabato scorso big match del torneo del girone di promozione il girone B, Valdichienti, Maceratese 1-1 che partita è stata? poi vedremo le immagini ma al primo tempo meglio Maceratese ha avuto anche una palla per chiuderla al secondo tempo meglio Valdichienti, Ponte Maceratese che nel mercato di gennaio ha rinforzato la propria rosa con giocatori importanti come Ridolfi e Subare diciamo che c'è stato il tuo zampino gli ho dato una mano come tante altre società però penso che il gioco per la vetta sia una lotta a due ecco Valdichienti o la squadra dei Filippini penso che se batte Domenica Monturano mette un bel segnale sul campionato un atletico Ascoli che adesso è primo in classifica ha superato il Valdichienti pensi che possano aver dato uno scossone alla classifica? io penso che sia una lotta a due per il vertice la partita che giocano sabato con Monturano se vincono quella nonostante anche il Valdichienti ha un campionato un po' più favorevole per la vetta vedo solamente i loro due anzi dico anche che devono stare attenti quelle dietro di fare punti perché possono prendere anche il distacco così non si potrebbe disputare i play-off atletico Ascoli che ha giocatori importanti Giovannini, De Marco stesso De Marco doppietta nell'ultima di campionato una squadra che è costruita per arrivare in eccellenza ma all'inizio non so che problemi aveva avuto è come quando incontri le squadre che hanno le assenze adesso a parte l'inciampone a Camerino dove hanno giocato su un campo impresentabile impraticabile proprio penso che se vincono sabato possono dire a loro fino alla fine o loro Valdichienti ecco quell'altra non sono in grado di rientrare per me Sulla Maceratese qual è la tua opinione generale di questo campionato disputato fino a oggi? Bene o male stando in zona play-off penso all'inizio dell'obiettivo della società giustamente nei gironi ne vince una di là l'Ancona non ha avversari nonostante Senigaya sta facendo un campionato e come ho detto due mesi fa puoi andare dietro al Cesena o al Madelica è normale che vince dei 20 punti senti gente che parla di salvezza play-off però purtroppo ci sono le differenze invece questo è un girone pazzesco Valdichienti negli ultimi 5 partiti se non sbaglio 3-4 pareggi una vittoria il periodo brutto capita a tutti però penso ecco ripeto che sia una lotta a due Civitanovese che ieri invece ha pareggiato con il Monte Cosaro 1-1 te l'aspettavi questo mezzo passo falso? Secondo me io l'ho vista due volte la Civitanovese se fanno i play-off è un miracolo dispiace a dirlo perché è una grande piazza però non vedo dei grandi giocatori come c'è la Maceratese Valdichienti lo stesso Mondurano ecco o Atletico Ascoli è un gradino sotto molto molto dura secondo me ecco sabato vanno a tre è una partita molto ostica se raggiungono i play-off è già un buon segnale molto difficile da raggiungere Invece il Monte Cosaro che ha bloccato la Civitanovese è una delle sorprese in positivo di questo campionato una squadra molto rocciosa quadrata che a questo punto se la lotta anche per eventualmente poter rientrare nella lotta per i play-off Ma le ultime quattro partite se non sbaglio ha fatto dieci punti nonostante non avendo un organico di primo ordine è merito a una società che è composta da gente seria merito all'allenatore è una squadra scorbutica da incontrare perché ciò che sto 5-4-1 però ognuno fa il calcio come meglio crede Come mai Jonathan Proculo è fuori dagli schemi quest'anno? Meglio stare fuori che prostituirsi nel mondo del calcio l'altro anno torneremo Allora noi sabato abbiamo visto la partita tra Val di Chienti Ponte e HR Maceratese io pregherei adesso la regia di mandare in onda il servizio Finisce in Pari Tile il big match di giornata del torneo di promozione tra Val di Chienti Ponte e HR Maceratese a Villa San Filippo Marcaccio risponde al guizzo di Moriconi e fissa il punteggio sull'1-1 finale un pareggio sostanzialmente giusto con la Maceratese bene nel primo tempo e i padroni di casa meglio nella ripresa risultato che fa scendere al secondo posto il team di Giandomenico a meno uno dalla capolista Atletico Ascoli e vede ridurre praticamente al lumicino le speranze dei Biancorossi di poter ambire al primato finale in graduatoria andiamo alla cronaca del match dopo appena 30 secondi Maceratese vicinissima al vantaggio Mongello scatta sulla sinistra e si trova tu per tu con il portiere locale ma sbaglia la conclusione e manda al lato la reazione dei locali è nella punizione dal limite di Castellano sfera alta al minuto numero 9 Maceratese che passa in vantaggio al sedicesimo gran giocata di Mongello sulla sinistra palla al centro per la corrente Moriconi che non perdona e porta in vantaggio i suoi padroni di casa vicini al pareggio al ventesimo con Monteneri ma il suo colpo di testa viene respinto alla grande da tomba in calcio d'angolo al trentesimo ghiotta chance per la maceratese di poter raddoppiare e Ridolfi da ottima posizione asciupare l'occasione del possibile 0 a 2 gol mangiato gol subito la legge del calcio non lascia scampo ai biancorossi e così al trentanovesimo Iommi è bravo a sgusciare sulla sinistra cross al centro per la spizzata di Castellano e l'intervento vincente di Marcaccio 1 a 1 e parità ristabilita nella ripresa la partita viene condotta dai padroni di casa che al secondo sfiorano subito la rete conclusione di Badiali da dentro l'area e ancora tomba bravissimo a respingere al 23esimo ancora Ridolfi ha sui suoi piedi l'opportunità di realizzare ma non riesce a gonfiare la rete maceratese vicina alla marcatura anche al 26esimo Bigoni da dentro l'aria asciupa una buona opportunità l'ultima emozione del match è sui piedi di Castellano al 37esimo l'attaccante si trova praticamente a tu per tu con tomba da posizione leggermente defilata ma ancora una volta il numero 1 bianco-rosso si oppone alla grande e sventa la minaccia termina qui la sfida con un pareggio sostanzialmente giusto ma che lascia l'amaro in bocca a tutti nel dopogara le parole dei due tecnici Gigi Giandomenico del Valdichienti Ponte e Francesco Moriconi della Maceratese sapevamo benissimo che affrontavamo una squadra forte ma credo che abbiamo fatto la partita per 90 minuti siamo stati un po' ingegni il primo tempo e concedere qualche contropiede di troppo e la troppa voglia di andarci a prendere risultato soprattutto dopo aver preso gol ci siamo fatti un po' prendere troppo da andarla a recuperare subito però devo dire bravi ragazzi perché stiamo attraversando un momento difficile un momento con tanti infortuni stiamo giocando da 3-4 partite senza attaccanti e io di più a questi ragazzi non posso chiedere un pareggio sostanzialmente giusto per quello che si è visto in campo con la Maceratese che nel primo tempo ha avuto anche l'occasione di chiuderla andare sul 2-0 però voi avete tenuto il calcio è bello anche per questo per il gol del pareggio immediato e poi nella ripresa avete alzato il baricentro e sfiorato il gol bravissimo Domba si detto bene abbiamo avuto un paio di occasioni anche noi il primo tempo se non sbaglio e poi credo che le più clamorose le abbiamo avute noi il secondo effettivamente se se Dolfi faceva il 2-0 la partita si complicava un bel po' però siamo stati bravi a tenerla in piedi e poi a provare perlomeno a giocare dobbiamo migliorare tanto perché ancora commettiamo diversi errori però come ho detto prima ripeto ai ragazzi non posso chiedere di più com'è la situazione degli infortunati? è ancora critica perché non riusciamo a recuperare ancora nessuno in più questa settimana si è fermato anche Carbuglia quindi giochiamo con Castellano che sta tirando la carretta dall'inizio quindi chiaramente è un momento anche un po' di calo quindi ci sta è normalissimo niente siamo questi e dobbiamo fare con quelli che abbiamo Mister Francesco Moriconi un pareggio in casa della capolista ormai ex Valdichienti Ponte una grande maceratese nel primo tempo a mio avviso il migliore della stagione e poi forse non avete avuto il guizzo decisivo per chiuderla sì il primo tempo abbiamo fatto quello che dovevamo fare contro questo tipo di squadra che c'è un gran bel palleggio l'unico rammarico che noi i primi 20 minuti forse dovevamo andare sul 2 a 0 tranquillamente perché ci siamo presentati due volte in maniera clamorosa davanti alla porta e lì quando vai sul 2 a 0 poi dopo penso che la partita sarebbe scivolata in un'altra maniera poi il secondo tempo è venuto fuori anche la loro qualità di gioco noi abbiamo un attimino saputo soffrire e poi come dici tu giustamente c'è mancata la zampata in certi frangenti la zampata che se ci credevamo di più poteva anche arrivare un miglioramento netto sotto vari punti di vista come squadra come parte atletica non ho mai visto forse una maciatese in questo anno così grintosa precisa raddoppiare su tutti i giocatori cosa è successo? è successo che noi adesso abbiamo un'anima una squadra un'anima gioca compatta cosa che fino alla fine dell'anno ancora non si è riuscito a trovare per una serie di motivi di cose l'ho notato tra il primo e il secondo tempo della partita in casa con il Montalto quando eravamo 1 a 1 se era un altro momento magari succedeva un po' di casino invece si siamo ricompattati bene lì ho visto una squadra propositiva che aveva voglia di riprendersi e da lì ho visto un atteggiamento completamente diverso ci è voluto un po' di tempo però adesso noi noi siamo una squadra adesso prima non eravamo squadra adesso siamo squadra e chissà cosa può succedere sul gol subito un errore di retroguardia diciamo si il gol subito è stato un errore di retroguardia però secondo me avevo detto di uscire ad attaccare prima i loro difensori centrali quando erano in fase di impostazione purtroppo siamo usciti tardi Montaneri ha pescato benissimo a Iommi dalla parte di là e è venuto fuori questo gol se uscivamo con più vemenza probabilmente Montaneri non avrebbe fatto quel lancio così pulito e probabilmente non sarebbe venuto il gol però tutto sommato adesso a parlare del gol il pareggio ci sta ecco c'è solo il rammarico che noi dovevamo andare subito subito sul 2 a 0 torniamo dunque in studio abbiamo visto le immagini di questo pareggio tra Val di Chienti Ponte e Maceratese Jonathan quale delle due squadre secondo te esce più rammaricata da questo pareggio? ma durano 90 le partite se Castellano fa gol alla fine Val di Chienti ecco giusto l'X diciamo così se fa 2 a 0 era un altro tipo di partita però insieme nel calcio non c'è Maceratese purtroppo è tagliata dalla vetta dai il campionato nella lotta 2 sulla sponda Maceratese forse un inserimento di Agostinelli prima per provare a fare qualcosa in più oppure tatticamente parlando come la vedi? ma doveva giardare qualcosa però io da fuori non è che posso commentare l'allenatore Gelano Agostinelli che è un periodo ciò che è un periodo no è una rosa ampia le scelte le fa lui giustamente sta intorno a playoff sta facendo anche bene via non poteva far meglio poteva far peggio però tanti punti magari che ha buttato a Marina Palmenza altre circostanze però al calcio puoi vincere con tutti puoi perdere con tutti perché questo è un girone pazzesco ripercorrendo un po' la tua esperienza da calciatore hai giocato fino a tarda età possiamo dire e hai fatto anche il professionista con ottimi risultati qualche aneddoto particolare lo possiamo raccontare ai nostri telespettatori ad esempio un incontro con Baggio raccontaci che cosa successe ma era quell'anno che stavo a Ravenna era morto Mero facevamo un amichevole col Brescia io feci uno scavino lui mi guardava gli ho detto queste cose solo io e te quindi diciamo ti sei paragonato comunque a un numero 10 di grandissima caratura no? come il Roberto Baggio forse con un'altra testa stavo lì o forse con un'altra testa non c'era ringrazio Dio che siamo vivi che testa hai avuto da calciatore? di una vita un po' fuori legge però non guardo mai dietro ecco ci sono tanti talenti in promozione vedi Giovannini vedi altri purtroppo il calcio è un mondo un po' particolare e sporco secondo me ci vuole fortuna l'altro anno speriamo che Dio mi dia quello che mi ha tolto quest'anno senza calcio allora da calciatore avevi delle potenzialità straordinarie no? io posso essere testimone che ricordo dei piedi davvero clamorosi hai un rammarico di non essere arrivato magari alla Serie A? no rammarico no non ho neanche rammarico quest'anno questo senza squadra perché tanto il calcio purtroppo è giusto che gira certa gente o certa gente non è che dico io sono più preparato o meno preparato spero che Dio un altro anno mi ridia quello che mi ha tolto quest'anno ingiustamente da una società dove ecco stando in zona playoff e quei risultati lì è tutto frutto del mio sacco parliamo della San Giustesi sì società seria però il rispetto è un'altra cosa com'è lo stato di salute del calcio marchigiano oggi? ma come vediamo nelle società di internazionale non c'è un andare di proprietà da qualsiasi squadra marchigiana dunque vuol dire che siamo molto 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 gravi allora io pregherei la regia adesso di mandare in onda la schermata con i risultati e poi la classifica del girone A del torneo di promozione Barbara Olimpia Marzocca 2 a 0 Cantiano Osimo Stazione 1 a 0 Gabice Gradara Santa Veneranda 0 a 0 Loreto Filottranese 3 a 1 Mondolfo Vigor Senigaglia 0 a 2 Osimana Laurentina 5 a 0 Villa San Martino Anconitana 0 a 1 e Valfoglia Villa Musone 1 a 0 per una classifica che vede l'Anconitana in vetta a 59 Vigor Senigaglia a 48 Barbara 37 Valfoglia a 35 Gabice Gradara Filottranese 33 Cantiano 32 Osimana 30 Loreto 27 Osimo 25 Olimpia Marzocca 21 Villa San Martino 18 Santa Veneranda 16 Villa Musone 12 e chiude la Laurentina con 10 punti Jonathan un'Anconitana che sta facendo un percorso netto in questo campionato ma nulla è dovuto nel calcio è stato bravo il presidente con i suoi collaboratori ad allestire una rosa ampia purtroppo le altre partecipano via dispiace per Senigaglia perché è una grande squadra e purtroppo lotti solamente per la seconda posizione Presidente Marconi che è riuscito anche a creare un feeling con la città vedo che allo stadio comunque l'Ancona è molto seguita nonostante la promozione su tutti la partita con la Vigor Senigaglia oltre 2000 spettatori ma il presidente è una persona seria dovunque va vince ha vinto l'anno scorso vince quest'anno vincerà l'anno prossimo anche l'eccellenza conoscendolo è una persona che sa il fatto suo Vigor Senigaglia hai citato poco fa l'hai menzionata come squadra una squadra quest'anno sfortunata direi perché comunque sta facendo un grandissimo campionato e forse l'obiettivo a questo punto potrebbe essere unicamente quello di non disputare i playoff sì magari potrebbe riuscire nei confronti di Barbara le altre penso che non riusciranno mai a risalire e dopo la lotteria dei playoff col girone B non è che puoi dire più forte l'A è più forte la B è girone B è un po' più quadrato in classifica io pregherei adesso alla regia di mandare in onda invece la schermata ai risultati del girone B del torneo di promozione atletico azzurracolli San Giorgese 3 a 0 atletico Centobuchi atletico Ascoli 0 a 2 Camerino Potenza Picena 1 a 0 Civitanovese Monte Cosaro 1 a 1 Montalto Futura 96 2 a 0 Monturano Chiesa Nuova 0 a 0 Palmenze Aurora 3 a 4 a 2 Valdichienti Ponte HR Maceratese 1 a 1 per una classifica che vede l'atletico Ascoli in vetta a 39 Valdichienti 38 atletico Azzurracolli 37 Monturano 33 Civitanovese Maceratese 32 Potenza Picena e Monte Cosaro a 28 Camerino 26 Chiesa Nuova 25 Aurora 3 e Palmenze 24 Futura 96 23 Atletico Centobuchi 21 Montalto 18 San Giorgese Chiude a quota 12 Jonathan Aurora 3 impicchiata e cosa sta succedendo secondo te? No è solo una questione di mancanza di giocatori Paolo Passarini era un motivatore da giocatore e un buon allenatore domenica non la Civitanovese sicuramente tornerà a fare risultato Invece il Monturano Campione come lo vede? Una squadra che sembra insomma in forma a parte questo comunque mezzo passo falso di sabato Ma non credevo in questo mezzo passo falso di sabato e nel mezzo passo falso con Monte Cosaro è una squadra che domenica se fa risultato laggiù molto dura secondo me però gli undigi iniziali è una come le altre forte le altre forse hanno le rose migliori più giocatori Camerino invece con la nuova guida tecnica Matteo Ruffini in panchina ha vinto un'altra partita si sta un po' risollevando dalle sabbie mobili diciamo ma secondo me giù sotto dire chi va giù chi retrocede è una bagarre ecco San Giordio Montalto le altre molto molto dura valutare Potenza Picena invece che opinione hai? Mister Zannini il solito diciamo giocare con questi tanti giovani una squadra molto giovane che sta facendo tendenzialmente bene Potenza Picena sta facendo un miracolo se vedi ogni domenica che hanno 5-6 under in campo l'ottimo lavoro del Zannini o della società si vede forse è una di quelle squadre ecco che sta facendo veramente un miracolo Parlando proprio di under quali sono secondo te i migliori della categoria? Sua rea della maceratese Giocatore che arriva diciamo con grandissime doti atletiche forse un po' sottotono sotto l'aspetto tattico sei d'accordo? Deve crescere forse? Ma io non vivo quello spogliatoio non mi permetto neanche di giudicare perché ci sono tante prime donne magari finché bravo Moriconi ecco a gestirli complimenti è molto dura comunque gestire uno spogliatoio dicendo di spessore E Suvare secondo te che categoria potrebbe fare anche l'anno prossimo o in prospettiva? No ormai che è andato a macerata ha fatto una scelta anche perché l'anno prossimo interregionale credo che sia solamente un 99 difficilmente potrà far parte di quel tipo di campionato di Serie D In campionati come quello di promozione dove c'è l'obbligo degli under che rapporto hai con questa regola? Come la valuti? Secondo me è stato fatto per fare un risparmio nelle confronti delle società allora mettiamo ne quattro e cercheremo di fare campionati magari solamente con under del bivaio e a quel punto le società vanno veramente in difficoltà senza pescare altrove società che vanno in difficoltà anche per una gestione di settori giovanili non sempre particolarmente adeguata possiamo dire il tuo messaggio da ex professionista è comunque uomo di calcio qual è quello per poter mettere le basi per un settore giovanile importante? Ma io posso dare un consiglio e non faccio il mago però che vedi magari vado a vedere degli allenamenti dei bambini di 7-8 anni che fanno gli ostacoli o li fanno correre secondo me siamo allo sbando totale magari un bambino di 7-8 anni gli dai un pallone lo fai palleggiare magari quando c'è una 9-10 riesce a palleggiare Allora noi siamo nelle battute finali di questa puntata con Jonathan Proculo lo salutiamo lo ringraziamo Grazie a voi E noi non resta che augurarvi una cordiale buona serata e arrivederci a lunedì prossimo Buona serata In collaborazione con Dental City Studio Dentistico Specialistico e CityMed Poliambulatorio Specialistico Via Mainini 79 Monte Cassiano Football House Materiali e attrezzature per lo sport Casette Verdini di Pollenza Moplan Arredamenti Progettiamo insieme a te Castelplanio Ancona Laser Ufficio Via Cupa Madonna di Varano 8 Recanati Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori